intanto Marco Di Bai polisportivo a San Vito può venire a ritirare il suo tesserino prenderale alla postazione microfonica per la quarta serie ai blocchi di partenza in corsia numero uno Stefano Iovine, Sporting Club Noale, due Alberto Navarri, Amatori Nuoto, corsia tre Tobia Zanellato, team Uganeo, corsia numero quattro Stefano Facillotto, alla testa H2O, alla cinque Alessandro Fampuzzi, circolo nuoto Wisp, sei Lorenzo Piria, Ht, alla sette Massimiliano Sacchetto, Amatori Nuoto, in corsia numero otto Riccardo Zanoni, team Veneto.